Bentornati a Radio Design qui dall'Istituto Italiano di Design, io sono Nicola Palumbo, qui docente di web marketing, oggi siamo in compagnia di due fantastici ospiti, Lucia Boccolini, non sbaglierò mai questo cognome, e il grandissimo Palamara. Buongiorno a tutti. Allora, Lucia, chi è Lucia? Intanto è l'ideatrice di questo fantastico evento che è il Flower Show che si terrà il 15 e 16 settembre qui a Perugia, ai giardini del frontone, mentre poi il nostro Palamara invece è il comunicatore di questo evento, se possiamo dire. Allora, Lucia, raccontaci un po' di questo evento, com'è strutturato e cosa troveremo questo fine settimana. Allora, innanzitutto ciao a tutti ragazzi, sono molto contenta di vedervi, siete già numerosi. Allora, sì, parliamo di Perugia Flower Show. Allora, Perugia Flower Show è un evento che ha 18 edizioni alle spalle, è un evento che si tiene due volte all'anno, si tiene in primavera, nel mese di maggio, si tiene a settembre per tutto quello che riguarda le fioriture autunnali. È una mostra mercato, è una mossa dedicata ai migliori produttori e collezionisti italiani che arrivano da tutto il territorio italiano e che portano piante, diciamo, insolite, piante meno reperibili in quello che è il mercato comune e quindi, diciamo, che attira un pubblico di collezionisti, di architetti paesaggisti, di gente che ha bei giardini, ma soprattutto anche di curiosi, appassionati e non. È un evento tutto green che si tiene, che nasce proprio ai Giardini del Frontone che sono un giardino storico che fa parte di un complesso monumentale che è quello di San Pietro che assolutamente ospita la cultura della nostra città e ospita una università più antica d'Italia che è la Facoltà d'Agraria, adesso non si chiama più Facoltà Dipartimento di Scienza Agraria, non me ne voglia il professor Tei, però, insomma, è un evento che è anche contestualizzato in un giardino storico che comunque parla di botanica. Questo ci tengo a dirlo perché, insomma, non è facile mantenere un evento alla diciottesima edizione con un'utenza così alta, grande, italiana, perché comunque riceviamo pubblico da tutta Italia, sì, il centro Italia è un po' il nostro punto di riferimento, però viene gente da tutta Italia, quindi non è facile tenerlo nel centro storico, ma noi resistiamo, continuiamo a darlo alla nostra città che è Perugia e tenerla in questo contesto botanico. L'evento è estremamente divertente, sia per gli appassionati che non, perché all'interno dell'evento, poi ce ne parlerà Alessandro Palamara, che è un po' insieme a tutta l'altra parte dello staff che non è con noi, però è il comunicatore dell'evento, ma è anche colui che, insomma, progetta parte di tutte queste attività e quindi magari poi ce le spiega meglio lui, però quello che ci tengo io a dire è che questo non è un evento dedicato soltanto all'acquisto, alla vendita delle piante particolari, ma soprattutto è un evento formativo. Certo. Uno, diciamo, viene in manifestazione e passa l'intera giornata imparando a potare piante, a trattare piante insolite, parlando con gli espositori, perché all'interno della manifestazione gratuitamente organizziamo una serie di attività che vanno ad insegnare come si curano queste piante, come si tengono, come si possono potare, come si possono riprodurre, tutte quelle che sono un po' le linee guida e queste cose ce le insegnano direttamente questi vivaisi che sono un po' le punte di diamante e che vengono da tutta Italia, soprattutto dai territori dove vengono prodotte queste piante. Sono realmente dei produttori, non sono commercianti, quindi se vogliamo comprare delle piante insolite e delle piante soprattutto portate direttamente dai produttori, sono diverse, sono piante molto più resistenti, sono piante che vengono trattate in maniera diversa e che quindi non vengono commercializzate di massa, quindi sono piante logicamente molto più preziose. Ci tengo a precisare che l'invito non è insolito perché le piante appunto sono molto legate al nostro discorso, cioè dell'interior design perché poi servono sia per landscape design, quindi per realizzare appunto giardini e tutto ciò che riguarda la casa, sia per gli interni, quindi l'invito non è insolito insomma, è una cosa che riguarda molto anche il nostro istituto e non a caso nell'edizione di primavera faremo qualcosa insieme. Allora abbiamo appena lanciato in conferenza stampa questa nuova collaborazione di cui io sono molto contenta, ringrazio l'istituto italiano design e ringrazio la professoressa Marta Toni per aver permesso questa collaborazione. Sì, a febbraio nell'istituto italiano design partirà un corso dedicato al gardening design, che è insomma un corso dedicato a tutto ciò che era parte di allestimento, florovivaistica, arte floreale, molto bello. E allora insomma ci siamo proposti come partner, come abbiamo già fatto anni scorsi in altre città con altre realtà e quindi svilupperemo insieme delle tematiche che poi la professoressa porterà direttamente in manifestazione, quindi credo che gli alunni dopo aver studiato tutto l'anno in collaborazione anche con la manifestazione e poi realizzeranno tutto ciò che hanno imparato e credo faranno anche dei piccoli esami con le installazioni in manifestazioni. Non saranno solo installazioni di gardening perché parleranno di moda, parleranno di grafica, cioè daranno un po' una visione ampia all'interno del contesto florovivaistico di quello che è un pochino lo studio che percorre questo corso, che tocca un po' tante tematiche oltre al gardening, quindi io sono molto contenta. E abbiamo lanciato questa collaborazione proprio adesso perché il corso partirà, durerà diciamo quasi tutto l'anno accademico e poi diciamo si concluderà nella manifestazione di maggio di cui questa sera lanceremo le date ufficiali per il 2019 ancora, non posso dire niente. Io speravo in uno scoop ma... No, non dipende solo da noi, noi le proponiamo e stiamo aspettando insomma un permesso nazionale diciamo, il circuito Flower Show è nazionale e fa seguito ad altre mostre che sono nazionali e che operano anche in città molto più grandi di noi come Roma, Torino, Palermo, Napoli, quindi noi siamo un po' più piccoli e sottostiamo un po' la scelta anche degli altri, però ci adattiamo bene. Vabbè, tra l'altro ci tengo a precisare e non tanti lo sanno che il nuovo logo del giardino del frontone è stato ideato da uno dei nostri studenti, questo è un grande scoop che vi do in diretta e lo vedrete a breve. Quando? Eh non conosciamo ancora le date però diciamo è un progetto che è nato l'anno scorso e che si concluderà con questo logo che diventerà il logo ufficiale del frontone. Che meraviglia! Attenzione, quante cose non sapete, quante cose non sapete. Allora, veniamo a Alessandro, quindi ci dicevi cosa avete organizzato che… Allora, ci saranno innanzitutto, come diceva Lucia, tantissimi corsi di giardinaggio tenuti dagli stessi vivaisti, ma attenzione ci saranno anche tantissimi corsi per bambini in collaborazione anche con Città della Domenica, che ci tenevo a dirlo, perché ci ha aiutato in questa organizzazione in questi corsi, quindi tantissimi corsi organizzati da loro, coinvolgeranno tanti bambini sabato e domenica, ma non solo Città della Domenica, c'è un altro stand che ha organizzato un corso per bambini e altri corsi di giardinaggio che comunque sono adatti a tutti, quindi invito a tutti a partecipare perché si possono… Dove troviamo un link dove troviamo tutte queste cose? Su perugiaflowershow.com c'è una sezione corsi dove ci si può iscrivere gratuitamente e poi partecipate numerosi. Io poi c'ho questo scoop che ho sentito durante la conferenza stampa di questa rosa particolare. La rosa Luisa Spagnoli. Ah, questa cosa mi sembrava figa. Particolare, è una rosa nuova. Allora, Flower Show… Che poi non ho capito, spieghiamolo, che vuol dire una rosa nuova? Benissimo. Cioè, si inventano le rose? Sì, sì, assolutamente. Hai visto, hai in mente ignorata. Vengono create dei nuovi ibridi, quindi proprio questo tipo di… in questo caso, questo tipo di manifestazioni come Perugia Flower Show o altre manifestazioni in Italia che curano il giardinaggio di qualità, sono proprio delle occasioni dove si possono reperire, quindi acquistare e trovare delle piante in anteprima. In questo caso, la rosa avviene per la prima volta dopo l'ibridazione, dopo anni, quindi viene per la prima volta commercializzata, quindi gli appassionati che in giardino hanno tutta una serie di rose, di rose barni, che è il più grande bridatore italiano, il più grande produttore e solo da lui si possono trovare prima che lui decida di commercializzarle in altri vivai, oppure attraverso il suo catalogo, la rosa non è ancora a catalogo e quindi si possono trovare in questo tipo di manifestazioni. è per noi un onore poterla presentare perché il vivaio che ci segue da 18 anni, è il primo vivaio italiano per ibridi, ha scelto di lanciarlo in una casa a Perugia dedicandola a Luisa Spagnoli, lui ha dedicato diverse roste alla moda e diciamo per noi il fatto di poter presentare per la prima volta la rosa a Luisa Spagnoli è un grande onore. Poi magari durante l'inverno con la dottoressa Spagnoli ci piacerebbe molto fare un reale battesimo, in questa occasione la dottoressa non ci può essere perché è impegnata con una sfilata molto importante che ci sarà tra qualche giorno a Milano e quindi presenteremo autonomamente con il vivaio la rosa che verrà messa a catalogo da ottobre in poi ma sarà disponibile in fiera, è completamente rosa fucsia. Oddio, shocking, come si dice rosa, è una rosa, è una rosa, sì, è molto bella come rosa quindi io consiglio a tutti gli appassionati di poter venire, di venire il sabato mattina presto perché non credo che insomma la troveremo. Ma poi lì si può solo vedere in una tecca di vetro? Si può comprare, allora a Flower Show si può solo comprare, è proprio questo, cioè nel senso i collezionisti hanno in giardino un roseto all'interno del quale hanno tutte queste rose cartellinate con tutte le proprie proprietà, la rosa Luisa Spagnola è la prima volta che viene venduta, quindi sicuramente questa per gli appassionati è un'occasione molto bella, poi da ottobre, novembre in avanti verrà messa a catalogo quindi sarà possibile acquistarla, ma la prima volta che viene messa in commercio è proprio il Flower Show Perugino. Quanti scoop eh? Anche noi l'abbiamo saputo da poco eh? È stata una sorpresa dal vivaio insomma, ci ha fatto molto piacere. Stavo pensando adesso vengo la compro ma poi conoscendomi che faccio morire ogni cosa dopo qualche giorno, forse evita la lascio ai collezionisti di capacità di pollice verde. Ma no perché è proprio questa, è un'occasione di venire al Flower Show. Allora per i collezionisti. Io ci vengo la vedo e dico ok, falla vivere in un altro luogo. No, i collezionisti vengono e comprano ciò che gli manca in collezione e va bene. Ma i curiosi, quelli che dicono ah non ho questo famoso pollice verde, non sono capace a trattare i piatti. Non è vero, venite, in manifestazioni ve lo insegniamo. Iaia di persone, in tutte le manifestazioni che noi facciamo, faccio un esempio, Ancona che ha sette edizioni alle spalle, Ancona riesce a formare dalle 800 alle 900 persone in due giorni ogni anno. Considerate che quasi 10.000 persone sono diventate dei piccoli giardiniere attraverso la manifestazione. Poi noi vi seguiamo tutto l'anno, vi teniamo in contatto con i stessi vivaisti. Ci sono tantissime persone che ci ordinano piante durante l'anno, che ci chiedono consigli, che ci chiedono di organizzare dei momenti insieme per andare a trovare gli stessi vivaisti nei periodi, insomma, di produzione delle piante. Quindi il Flower Show è un momento di incontro tra l'appassionato sicuramente, ma il curioso che vuole entrare in contatto con questo mondo che tutti pensano difficile e non è vero, ma questi vivaisti sono completamente a disposizione, quindi è proprio un momento per imparare. Quindi tu che dici di non avere il pollice verde... Avrò un pollice verdissimo adesso. Ma vogliamo dipingere i pollici a settembre alla gente? Vogliamo dipingere i pollici verdi? Un altro scoop. Facciamo così, prendiamo l'impronta all'entrata, no? E poi vediamo se cambia colore quando la scena un può entrare. Seleziona l'ingresso. Seleziona l'ingresso. L'abbiamo fatto una volta, nel 2016 abbiamo curato l'evento in tutto il centro storico di Modica, Sicilia Orientale, in provincia di Ragusa. E lì, insomma, durante la trasmissione io tirai fuori sempre questa storia del pollice verde e lo staff mi prese talmente tanto in giro che mi obbligò a girare con una tavolozza con questa tempera verde e filmandomi loro la staff dovevo dipingere il pollice a tutto. Quindi sono partita dalle amministrazioni, sindaco, vice sindaco, assessore al commercio, alla cultura, tutto quanto e poi da lì tutta la popolazione. Quindi giravano tutti con questi pollici verdi. Ma non è che è una figata. C'è un video su YouTube, se volete vedere. È carino. Adesso. Ma io voglio... Se non la fate voi, la faccio io. No, rubi le idee degli altri. No, non la faccio per voi. Ah, ok. Poi faccio le fotine alla gente. Vieni tu. Bene, direi che abbiamo detto un sacco di cose. Io voglio vedere questa rosa fucsia shocking e sono curiosissimo. Manca poco. Sabato e domenica, dalle 9 alle 20, siamo aperti. Venite a vedere questa rosa e tanti altri vivaisti che vi proporranno un sacco di piante e di fiori. Bellissimi. Abbiamo un hashtag ufficiale? Per un flower show. Mamma mia. Una cosa a casa. Ma portate i bambini, mamme, mamme, portate i bambini. È pieno di attività molto belle. Io sono mamma e quindi ve lo dico. Insomma, ci sono delle aree dove i bambini possono sostare, dove possono rimanere a fare le attività. Consultate il sito perché ci sono, diciamo, dei laboratori e dei momenti molto formativi a livello scientifico e didattico ma assolutamente divertenti perché anche i bambini sono tornati a scuola, si sono fatti la prima settimana di scuola. Quindi questo sabato e domenica dovranno sicuramente imparare perché, insomma, le attività sono formative ma in maniera divertente. Quindi ci sarà l'insetto stecco, ci sarà l'insetto foglia, ci saranno gli entomologi, ci sarà il gufo, i serpenti, le guane, si possono toccare, ci possiamo giocare, possiamo creare le cesti intrecciando. Insieme alla città della domenica, che ringrazio e saluto, ci saranno vari personaggi, favole, letture, c'è Biancaneme, ci sarà Peter Pan, insomma Palamara. Palamara. Ci sono anch'io, per i bambini. Palamara probabilmente lo metteremo in programmazione su quello che sarà l'attività invernale della città della domenica. Il rispetto è più successo di Biancaneme. Il Palamaro lo chiameremo. Palamaro, nuovo cartone da turismo. Comunque mamme, portate i bambini, portate i bambini assolutamente. E iscrivetevi ai corsi sul nostro sito www.pluciaflowershow.com. Se il corso dovessevi essere pieno e sul sito non c'è più possibilità, voi venite in manifestazione perché un posticino lo troviamo sempre. Bene, anche per me che peso 90 kg. Beh, tu sui bambini non hai chiamato... Eh? Hai detto il tuo peso. 90? No. Pensavo di una paura. Come basta poi che degeneriamo sempre. Sono solo le nove e mezza del mattino. Esatto. Ancora non abbiamo fatto aperitivi. Adesso andiamo a prendere un caffè Fucsia Shocking. Assolutamente. Un saluto allora a tutti e grazie ancora. Ciao ragazzi. Ciao.